Eberini, una partita incredibile quella di oggi al Bonolis, un primo tempo tutt'altro che spettacolare, poi nella ripresa è accaduto di tutto, avete avuto le occasioni per vincere questa partita, ma avete rischiato alla fine di perderla. Questo è il calcio, eravamo riusciti a tornare in vantaggio due volte, abbiamo preso subito gol, però il Teramo ha buttato il cuore come ce l'abbiamo messo noi. I due nostri obiettivi erano importanti e credo che sia il Teramo che ha fatto una grande prestazione di cuore e di volontà, ma anche la Reggiana lo ha fatto. Il risultato purtroppo non serve a nessuna delle due, perché noi da esser secondi siamo passati quarti e il Teramo dovrà giocare i play-out. Succede, succede perché alla fine le motivazioni erano importanti, si è giocato poco a calcio, si è giocato a pallonate sopra, noi avevamo delle grandi difficoltà dietro di fisicità nei confronti, quando ha messo quattro torri abbiamo fatto fatica, però si è stati bravi, perché nelle ripartenze facevamo sempre male. Dispiace per noi, dispiace per loro, però abbiamo tempo di rimediare, abbiamo tempo... Io credo che oggi il calcio abbia avuto un'altra dimostrazione che è fatto con onestà e correttezza, purtroppo per noi due, ha ancora dei valori. E questi ragazzi, tutti e 30 quelli che sono scesi in campo, hanno veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo, sono stati veramente stupendi, sia i miei che i loro. Auguriamoci che tutto questo sia d'auspicio per il vostro appuntamento e per il nostro. E' un terramo che si aspettava così nella ripresa? Sì, quando hai pochi motivi per cercare di giocare, cerchi di trovare subito la via della porta, poi loro avevano tre torri che ci hanno fatto veramente dei danni incredibili. Non è stata una gran partita, è stata una partita solo emozionante per tutti, però, ripeto, bene il calcio fatto così va bene per tutti, per i tifosi, per i giocatori. Hanno dato grande dimostrazione di serietà a tutte e due le squadre. Eberini, in quel finale convulso, quando il terramo attaccava senza soluzione di continuità, ha avuto timore di perderla alla fine questa partita? Ma a noi non ci interessava pareggiare. Addirittura Eric è andato a fare l'esterno-sinistro, cioè sono saltate tutte le cose che erano prestabilite. Si è giocato per cercare di usare il nervoso, la forza, la cattiveria. Non ci siamo riusciti né noi né loro, tutto lì. Grazie.